Il furto del tabernacolo Il furto all'interno della cappella dell'ospedale San Donato di Arezzo I ladri hanno addirittura portato via il tabernacolo contenente le ostie consacrate Le ostie consacrate che servono sia per le messe quotidiane Che per la distribuzione degli ammalati nell'ospedale quotidianamente Quindi abbiamo bisogno almeno di quel cintillare di ostie che dentro ci devono essere sempre Il furto è stato denunciato dal parroco alla polizia di stato che ha avviato le indagini Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza Questo qui per cui quando uno entra di qui ovviamente in questa zona qui O che venga di qua o che entri da fuori qui per forza la prende I ladri potrebbero aver nascosto il tabernacolo trafugato all'interno di un sacco nero Per potersi così dare alla fuga senza dare nell'occhio Mancando quella mattina di mercoledì il sacco nero Fa presumere proprio che chi ha rubato il tabernacolo Lo abbia inserito qui dentro portando via il sacco Il furto alla cappella dell'ospedale San Donato è accaduto a pochi giorni di distanza Da quello messo a segno all'interno di un'altra chiesa retina Quella di Santa Croce Lì i ladri sono entrati in azione martedì scorso Anche in quel caso hanno fatto razzia di ostie consacrate Dopo aver forzato il tabernacolo dietro all'altare Grazie Grazie